ma c'è anche la terra c'è la nobile Artur tanti errori che ha da fare la partita Artur però va a disolvere questa situazione ma c'è Di Marco che alimenta l'azione però ossia di Di Marco che è Durano ma è tutto là beh beh che è durano che è durano bravo per un minuto abbiamo visto per offrire a Federico Di Marco che fuo che lo fa alla sua maniera Modolo aspetta forse è un po' preoccupato prende posto dentro Durano la prende il solo al limite l'Altaro si è che ha spazio se ne è poco tutto il toccato l'auto Fiorentina all'ora Di Marco arriva anche Marco dentro oh no porca miseria dai dai basso si inganza bastoni basso mi chiesa e se ne risponde poi l'Altaro è stata con il testo l'interessante avvenendo di tanto spazio anche lo stesso basculino però quando gli esterni quando questa è la doppia l'indietro mi sono detto per l'interessante italiano si dice che i primi difensori sono gli attaccanti a un movimento giusto avanza bastoni secondo fallo perdone schiamete giù controlla butta e poi spara con il no ti Marco rimette non è finita bastoni raccoglie prova a calciare anche lui prima liscia poi ancora a gestire d'ales caldo profondo di insolane con d'ales avuto la porta va con la pinta e frae bravo che capisci vai vai che gol questo contropiede porta porta la mare arrivo ovviamente che è l'autaro la sinistra c'è turam aspetta puntalo puntalo ti metto a tagliare va bene va bene bravo ancora una volta la ripartenza dell'inter sei uomini per la piavitrina terza palla sono rimasti i broni della palla di bravo Debrai a trovare il tempo tra il rischio e infattare la palla non è calciato in modo pulitissimo tutt'altro però va di beffa a Veser come si è calciato sotto le gambe vai lauti porca troia cosa ha preso vai Dundris ma non è vero ma non è vero vai 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 porco cane tanto ma non è vero bravo dimas Porta, ancora! Bravissimo, vai, vai, vai! Tira, tira! Sì! Bravissimo, bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Per il suo numero 9, Marella, ecco l'altavo, d'accordo, valla a correre, tira, tira! E poi dentro t insegna. Rigore, rigore, oh! E' rigore per l'Inter, scatenato, 팁's cura. Eh sì, eh? Un gol, un gol, ed esco, anche rigore è questo. È rigore, sì. Forte, angolo destra, al fin corso, togli delle ragazze. In corso a preve, il corsa preve, il corsa preve, il corsa preve. Ciao! Ciao! a un uomo un uomo un uomo vita a me Marco Marco, vita a me, Marco! E' una sera che la pare! Teso a mano, bravissimo, bravissimo! Bravissimo, quadrato, bravissimo! Forte e teso! Bravo, cazzo! Cross, soprecalo, Vattori rompe! Palla che si impegna, Zolaco batte, non fa fallo! Finita, finita! E' finita! Campa, semplice!